ma voglio fare una lettera all'inglese chi è in termine scivata è cianciosa e l'ha già combinata da queste cose che sa da queste cammina con un mese rinda ci voglio mettere tre cose una sospira, una lacrima e una rosa e attorno a attorno alla milocca anchiusa c'è voglia da nasi santini vasa tante capità di che bella cosa sto innamorato mio quando è precisa mentre io mi firmo con gnostia odirosa il vostro schiavottiello, Antonio Riso il vostro schiavottiello il vostro schiavottiello